La polizia di Siracusa nel corso di controlli amministrativi ha appurato che nonostante gli uffici del comune avessero notificato il provvedimento di chiusura di una comunità per anziani, il titolare della struttura ubicata nella zona centrale della città proseguiva regolarmente l'attività. All'uomo era stato intimato di provvedere entro 25 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura alla sistemazione degli ospiti presso i parenti o altre strutture regolarmente autorizzate all'accoglienza degli anziani. Al momento del controllo il personale intervenuto ha accertato che all'interno della struttura erano ancora presenti alcuni anziani e che alcuni farmaci erano mantenuti all'interno di un frigorifero insieme a prodotti alimentari. Dopo il controllo amministrativo il titolare della struttura è stato denunciato per aver omesso di ottemperare al provvedimento di chiusura e conseguentemente poiché svolgeva l'attività senza alcuna autorizzazione sono state elevate le contestazioni di carattere amministrativo.